Gentili telespettatori, buona giornata. Redditi fermi in Italia. Per quasi tutte le categorie analizzate nel report del fisco, i redditi medi dichiarati nel 2022 ritornano più o meno a livelli precedenti della pandemia. I tassisti, ad esempio, nel 2019 dichiaravano in media 15.500 euro. Sono scesi a 3.700 nel 2020, poi saliti a 8.400 nel 2021 e tornati a 15.500 nel 2022. Come i ristoranti che denunciano in media 15.100 euro contro i 14.800 di quattro anni prima, dopo aver registrato una perdita media di 9.000 euro nel 2020. O le tintorie e le lavanderie che stanno a 10.800 euro nel 2022 e sono salite a 11.300. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.